corso elea ascea marina orario serale qui in compagnia come sempre della nostra che giveria qui per noi questo è il punto finale del corso elea dopo vedrete ovviamente tutto il corso vi farò vedere in momento partono i video ciao raga quanti ricordi secondo piano dovrebbe essere quella se non mi sbaglio e qui si metteva la macchina quanti ricordi non potete capire ricordi storici di quando ero bimbo bell'altra volta l'avete visti spente adesso stanno scese tutti tutti forza aumentiamo un po' accelere scritta ascea come tanti anni fa e questa è la parte comunale non si vede nulla raga ma sono bimbi ecco la gaffa gamerina che è circa di raggiungerci ragazzi le fontane come sempre nei nostri video non possono mancare mai eccola qui in altro anche ad ascea andiamo andiamo ci sono fontane che bel venticello che c'è c'è tutto ragazzi c'è tutto c'è anche il poli gamer presente qui per voi a qui c'è la possibilità di prendere anche il rischio in the rich show chi sarà infatti la pista ciclabile che è a disposizione difficile che prendi le persone perché non è sopra il marciapiede come a una parte chiamata praia che la capo camerina si era schiantato dentro l'albero quando abbiamo lasciato portare il vero vabbè oltre al fatto che era molto pericoloso perché la pista ciclabile dove passeggiava anche le persone cioè non era a parto ma quando mai l'era poco marciapiede ma quando mai dovevamo saprò accortare gente andrewwood manco è una patana si vede che l'ha preso solo con me il rischio vedi ci è andata per anni e anni la capo camerina ma l'ha preso solo quando stava con me guarda poi c'è anche la piazzetta lì la sera dopo prendiamo le zucchero e cannella quello che dicevano qua c'è lo zucchero e c'è anche la cannella battuta cucinella citrullo piacere qua c'è bella questa cintura ma chi ti l'ha regalata perché non so questa cintura ma testamente a parte ma testamente cosa che ti è stata regalata non è vero è stata acquistata dal sottoscritto nessun regalo è stato desiderato senza autorizzazione diciamo che è bella però ascea di notte molto popolare sicuramente il video è molto più un marco se il braio era più pieno però no e poi ci sta pure il lato per bambini giostrine aperte 24 ore su 24 e non ci sono chiusure ripetiamo ribadiamo il concerto non ci sono non vengono chiuse le ville nessun orario in nessun orario pure qua si fanno le escursioni in bar ah per pallinuro è marina di camerò ragazze che marina pensava che non c'era la barca se qua c'è tutto ragazzi barca non barca barchetta vedi le villette se rimangono aperte e si mette qualche chioschetto all'interno della villetta la villetta rimane attiva non è questione di posto di veleggiatura o meno è questione proprio di capite capite è questione che se viene fatta anche lì le cose migliorano bello 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 così mi piace ehi guardate che bel chioschetto caffè spritz quello che ti serve te lo prendo e adesso ci riavventuriamo ma c'è pure la giungla ma ti amala c'è il libro della giungla puri puri è il libro della giungla guarda capito quanti anni che non vedevo il suo cartone vedi un po' non 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 è è quindi un po' un po' utile non non te l'ho visto l'evento non Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non ti permette di toccarmi. Cavalli? Cavalli, perciò compra un gatto. Ah, risveglio mattutino di Ascea, ragazzi. Eccoci qui, alla stanza del nostro piccolo appartamento. Ah, questi posti di belleggiatura avresti. No, è voluto voler. Ah, buon ferragusto. Niente falò, ragazzi. Questa è bella, vamos a spiegarmi proprio qua. Capgemarina nel frattempo si osserva le foto. E stiamo raggiungendo il secondo punto. Io e Shea che ieri ovviamente non abbiamo mostrato. quale punto stiamo per mostrare. Il Charlie Brown. Per esempio, non è che si vede tanto, ma da qualcuno al mare. C'è una piccola nebbia causata... C'è stata proprio una nuve, una cappa, c'è stata qua la nebbia, cosa dico la nebbia? Quella è proprio una cappa. Causata purtroppo dall'incendio che si è fatto nella città del paese di Ascea. Purtroppo a causa di problemi tecnici, diciamo così. Sono dei piccoli mercatini mercatali. Quindi, come sempre, i mercatini mercatali hanno la loro facoltà di essere visionati, visti e acquistati. Si, mi sono mandato le foto. La Capgemarina fa le foto, se le manda, fa tutto lei, la comanda lei con il mio telefono ormai. Eh, se non ti dimentichi di mandarlo. E' quel primo mercatino che si occupa del Milan. Poi ci sta il secondo mercatino, il terzo mercatino. Poi nel Milan, mi piace il Milan. Se ti piace il miele, bravo. Si. L'inverno l'ho fatto comprare, lo mettiamo nel latte caldo, ma me lo faccio io. Poi così, ci ritroviamo vicino alla scritta a cena. Mi piace il miele. Dobbiamo fare una foto vicino alla scritta a cena. Ah, si. Di nuovo, il ritorno della scritta. Eh, è vero, perché dopo due anni. Dopo due anni, ragazzi. Noi intendiamo già il video, però è pomeridiano, non è serale. Ah, invece il video è anche serale. Cose di lusso sul canale di GameTrips. Ma raga, la mia infanzia si è trasformata in ristorante. Charlie Brown. La mia infanzia si è trasformata in ristorante. Cioè, era... Qua era bellissimo, perché c'erano... Tutto c'era. C'erano tutte le salagiochi, cose. Mi è diventato un bar. Perché c'era il biliardo? C'era il biliardo a sei, il biliardo a quattro, c'era il coso dei cazzotti, c'era il coso del disco, c'erano le varie... Esatto, qua c'era la varie di cosi dei cazzotti. Qua è proprio cagnata, allora. Cioè, è diventato solo bar. Una volta era... Sì, c'era il bar, però c'era tutto quello. Che spreco, ragazzi, la mia infanzia. Distrutta in... Ma addirittura anche il campo da calcio, che mi ricordavo che ci facevamo le partite di pallone. E' diventato un posto per le roulotte. Cioè, raga... Un punto di sosta. Cioè, ma... Stiamo scherzando? Cioè, boh, io non lo so. Cioè, in... La bellezza del 2016 al 2024 mi è stato modificato mezzo mondo. Le cose cambiano, amore. No, non va bene che cambiano. E' bello quando rimangono tutte uguali, invariate. Mi hanno rovinato mezzo mondo. Mi hanno rovinato tutto. Bastardi. Essere viventi inutili. Ove vi siete permessi di fare ciò. Che cosa è diventato lì? Che cazzo è là? Dove? Un assortimento. Ah, è là. Un assortimento del cazzo. È diventato... Cioè, Charlie Brown diventa un locale. Non c'era nessuno, infatti, dentro al locale. Ok. Il locale Charlie Brown era per il biardino. Ok, boh, io non lo so. Molto arrabbiato. Molto deluso. Non parla a chi lila, in gilla. Vai a qui. No, dovete. No, è chi li pensi di proprietà sono sempre stessi. È loro che hanno modificato il tutto. Ah, il rumore dell'acqua. Domani marina di Camerout. Di Camerout è di marina. Domani marina di Camerout. Roba di lusso domani. Cambio città. Cambio paese. Cambio... Provincia stesso. Ah, sì. E anche lei c'è una. Ah, guarda la bacca della bacca del ramassone. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.